Ci colleghiamo subito con Marina Moretti che si trova a Pescara per gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi dati sulla diffusione del coronavirus in Abruzzo. Buonasera Marina. Buonasera a te Paolo, buonasera qui da Pescara, da me e da Diego Martelli alla telecamera. Oggi sono 310 nuovi positivi, l'età va da 1 a 95 anni. Ci sono, come hai detto giustamente, 15 decessi, età dei decessi da 39 a 93 anni. Sono 459 i guariti, sotto i 19 anni sono 53 i positivi. C'è da dire che i tamponi effettuati sono circa 9.000 fra tamponi antigenici e molecolari. Il tasso di positività oggi rispetto al numero di tamponi effettuati è del 3,3%. Mi fa piacere adesso dare tre segni meno perché sono un piccolo ma significativo segnale. Ci sono 14 persone in meno in terapia non intensiva, 3 persone in meno in terapia intensiva e 147 persone in meno che sono a casa e che quindi da oggi possono riprendere una vita, diciamo così, normale o come il Covid consente. La provincia con più casi, ancora una volta, come già accade da giorni, è quella dell'Aquila. Sono 107, 99 quella di Teramo, 81 la provincia di Chieti e 42 la provincia di Pescara. Questi sono i dati più significativi del bollettino diramato oggi dall'assessorato alla salute della regione Abruzzo. Paolo? Facciamo un passettino indietro perché dalle immagini tu ti trovi a Pescara proprio davanti al Covid Hospital e questa mattina proprio lì hai intervistato il professor Giustino Parruti sugli anticorpi monoclonali. In pratica una possibile arma in più proprio per fronteggiare il virus. Eh sì, esattamente Paolo, è proprio così che è stata definita dal dottor Parruti, una arma in più molto attesa tra l'altro perché era stato lo stesso dottor Parruti anche ai nostri microfoni a dire più volte che quell'arrivo, quello dei farmaci, degli anticorpi monoclonali avrebbe rappresentato comunque una piccola svolta oltre naturalmente ai vaccini che sono il caposaldo. C'è da dire anche che oggi è partita questa somministrazione il primo caso a cui il primo destinatario di questi farmaci monoclonali in realtà ha rifiutato l'infusione perché ha detto voglio aspettare un po' e vedere. Ma il dottor Parruti ha tenuto a precisare che non ci sono sono molto vicini allo zero gli effetti collaterali e che invece ritiene importantissimo procedere con queste infusioni si tratta di una monoinfusione in dei hospital, proprio qui al covid hospital. Dicevo il dottor Parruti ritiene importantissimo procedere subito appena ci sono i primi sintomi o addirittura anche solo quando si scopre il positivo. farmaci che però vengono dati secondo il protocollo alle persone che sono più a rischio cioè alle persone positive ma che hanno fattori di rischio anche multipli come alcune patologie lo sentiremo fra poco dallo stesso dottor Parruti e quindi che rischiano di sviluppare la malattia e di risviluppare le complicanze che la stessa malattia può dare. Dunque se sei d'accordo Paolo partirai con l'intervista alla dottor Parruti e poi ti restituisco comunque la linea. Perfetto. La cosa buona che ci rende molto ottimisti è che oltre al vaccino questo è uno secondo strumento nuovo perché permette di prevenire lo sviluppo della malattia nelle persone che hanno contratto l'infezione non hanno ancora una malattia in forma grave e hanno però fattori di rischio per poterla sviluppare. Quindi se una persona completamente asintomatica entro i primi otto giorni dell'infezione ha un diabete mellito scompensato, ha una obesità o altri fattori combinati che ne rendono il rischio importante di sviluppare la malattia sicuramente avrà priorità per questo trattamento. Se una persona ha dei sintomi iniziali come la febbre, la tosse senza un grave coinvolgimento polmonare ma con altri fattori che fanno pensare che questo coinvolgimento sia lì per venire questo è il posizionamento giusto di questo farmaco che quindi aumenta le nostre potenzialità di intervento perché è un farmaco che utilizziamo prima di tutti gli altri che stiamo adesso utilizzando quando ancora non c'è malattia importante. Chi indica questa utilità? Diciamo così, il medico curante o? Sì, allora chiaramente una parte importantissima nell'utilizzo di questi farmaci è affidata al territorio e quindi ai medici di medicina generale e ai loro bracci armati che sono i medici delle unità speciali di continuità assistenziale, gli USCA. Chiaramente quando un tampone viene fatto sul territorio il medico informato, il medico sa tutta la storia del malato sarà il primo a poterci informare del fatto che possiamo sicuramente procedere. Ma se un malato per una forma lieve o lievissima venisse o per un'altra ragione essendo andato in pronto soccorso per esempio per una frattura e avendo febbre e un po' di tosse gli fanno un tampone che viene positivo anche il medico che ha appena fatto la nuova diagnosi quindi non sul territorio ma in ospedale può giustamente inviarci il malato. Sono circa 100 le fiale da infusione che sono arrivate o che arriveranno per ogni provincia abruzzese si spera e si confida anche in un ulteriore arrivo una volta terminate queste fiale c'è da dire però che la prevenzione non sempre trova tutti d'accordo faccio un esempio, se io pur essendo positivo fossi in buona salute apparentemente non avessi grandi problemi mettere una sostanza di cui si conosce o almeno il cittadino conosce ancora poco potrei avere delle prevenzioni tant'è che oggi una persona ha proprio rifiutato questa infusione cosa si sente di dire lei? Io mi sento di dire che gli studi preliminari che sono stati fatti sono assolutamente chiari e documentano che quando l'utilizzo è stato confrontato con quello del gruppo di controllo che ha ricevuto solo un placebo cioè solo una falsa forma del farmaco gli effetti quadrali sono stati identici nei due gruppi quindi è un infuso proteico che al di là dei piccoli rischi di allergia nell'infusione non dà problemi quindi mi sento di dire che è una cosa assolutamente sicura giustamente ognuno trattandosi di una forma preventiva può fare le sue considerazioni